amici di vieni in sicilia i gabbiani adeggiati su questi scolli sono stati un richiamo al quale non potevamo sottrarci e volevamo regalare a tutti voi questo video qui da un angolo della spiaggia di caronia marina siamo all'ingresso lato messina di caronia marina e vi regaliamo questo grande momento con i gabbiani adeggiati sugli scolli creano una scenografia che insieme al mare è veramente unica e guardate che spettacolo questo è lo spettacolo della sicilia questo è uno dei momenti unici che stiamo regalando a tutti voi a tutti Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì.